La tecnica di recupero della leva, diverse leve, a seconda di come ballano e prima o poi ballano, fa finire che tu la devi prendere, riproviamola, magari tu sei lì che la vuoi chiappare, manchi la leva ed è un momento un po' difficile dove vorresti la botola dell'onore, cioè quella che quando succede qualcosa che non va come vuoi tu, bam, la botola si apre, tu sparisci, sei sparito, per cui è la botola dell'onore. Allora cosa succede? Ti faccio sentire, il movimento giusto è questo qua, guarda, lui bascula, passo da dietro, lui bascula, passo da dietro, faccio strabasculare, passo da dietro, comunque vada, faccio un giro un po' più lungo, chiudo la manina, col fluid rose lo devi fare per non picchiare contro qua, e acchiappi da dietro la leva, apri la mano qua e ti trovi con l'impugnatura un po' più giusta. Certo è un viaggio un po' più lungo del normale, però ti dà la quasi certezza che prendi sempre la leva in mano nella maniera in cui vuoi tu. Andiamo per esempio a vedere. And forever.